Invito Catherine Iene che farà un intervento sul ruolo dell'associazionismo nella società italiana e marchigiana. È una cittadina italiana, è stata insegnante d'inglese alle scuole superiori ed è, cioè io penso di conoscerla da quando è iniziata a lavorare in Regione, quindi non si è stancata di fare un'azione di integrazione sia tra le persone immigrate ma soprattutto con le istituzioni. Adesso un attimo carica con una pennetta di intervento che si è aggiunto sul tavolo un altro opuscolo e riguarda un opuscolo informativo per gli stranieri per quanto riguarda la formazione linguistica e civica nelle marche ed è prodotto sulla base di un progetto regionale finanziato con i fondi europeo per l'integrazione dei cittadini nei paesi terzi. È una novità nel senso che saranno divulgati soprattutto nell'ambito dei centri territoriali per l'educazione degli adulti e è un opuscolo già diffuso tramite le Cdp e che continueremo a diffondere anche tramite le prefetture e poi probabilmente in questo anno potete prenderne che ce ne abbiamo anche più di uno e in questo anno, perché il progetto è finanziato dal quarto anno che il Ministero dell'Interno finanzia il progetto, lo faremo anche in lingue straniere e ci dicono appunto quali sono i luoghi della formazione e con indirizzi eccetera e referenti. Siamo pronti Marcello? Ancora no? Allora mi è stato chiesto un intervento, io ho suggerito, ho detto che noi dovremmo chiudere intorno alle 13 e quindi chiedo al signor Spegni se ci sarà tempo sicuramente. Scusate io non ho l'abitudine di parlare nel microfono perché essendo una tipica donna africana abituata a parlare in piazza con il tan tan vi dico sinceramente che il microfono mi dà fastidio però siamo in Europa, si dice quando vai a Roma fai come i romani e ci proverò. Ho preso degli appunti che non posso leggerli tutti qui però se è possibile di avere queste cose scritte da Marcello o dalla regione dopo vi consiglio di averli perché il mio pensiero di 50 anni perché è 50 anni che sono qui in Italia, vissuto di migrazione giorno per giorno. Io ho preso il titolo Homo Migrans, chi è? È un essere vivente dotato di intelligenza superiore a tutti gli altri esseri viventi, capaci di spostarsi autonomamente. È così intelligente ed astuto che riesce a sopravvivere in mezzo agli altri esseri più grandi o più pericolosi di lui e nei luoghi più disparati. Dalla sua esistenza è l'unico essere che non è mai soddisfatto di un solo abitato perché pensa e crede che l'erba del vicino è sempre più verde della sua quindi non esita a spostarsi continuamente cercando un posto migliore. È curioso e vuole conoscere ed apprendere tutto ciò che si trova al di sopra della sua attuale conoscenza. Trovare un nuovo ambiente e migliorare le sue condizioni di vita. Non esita a modificare quello che ha imparato durante i suoi spostamenti. Essendo anche vanitoso, egli esibisce la propria capacità attraverso oggetti prodotti personalmente o raccolte ad esempio artigianato, disegni e si mostra attraverso i suoi melodici accompagnamenti dai suoi movimenti ritmici non solo ai suoi vicini di rifugio ma anche lungo i sentieri dei suoi spostamenti. Sviluppò il suo istinto di branco e fondò una famiglia e da tante famiglie nacque i villaggi e comunità. Incontrando altre comunità subisce nuove influenze nel bene e nel male. Se l'influenza avuto peggiorerà la sua nuova condizione di vita, è ovvio che egli ricomincerà a pensare che il deserto è intorno a sé mentre l'erba cresce sulla terra più in là. Allora, cercare di raggiungerla con qualsiasi mezzo, in questa epoca moderna, spostamento per migliorare la propria condizione di vita, si chiama emigrazione. Prendiamo qualche esempio. L'interazione. Un industriale desideroso di stabilirsi in un'altra nazione stenta a fare i passi più lunghi delle sue gambe. Invece, uno straniero in cerca di lavoro non ha paura di avventurarsi dentro un paese completamente sconosciuto perché egli ha solo le sue mani e il cervello da offrire. Siamo all'aeroporto e vediamo atterrare un aereo, due uomini scendono dall'aereo. Uno è un impresario e l'altro, invece, è uno che cerca lavoro. Il trattamento dall'aeroporto di ingresso e di accoglimento dell'uno o dell'altro è differente ed è anche importante. Anche se tutti e due possiedono documenti genuini per espatrio ed ingresso, vengono accolti nei modi differenti. L'impresario emana fiducia negli occhi degli ottotoni perché è colui che è venuto per dare benessere al popolo residente, mentre il lavoratore straniero, al contrario, è venuto per godere il benessere. Questo è il pensiero. Ricco o povero che sia, c'è qualcosa che gli accomuna. Ognuno di essi è l'homo migrans. Da pensare che l'homo migrans è un portatore di una cultura diversa, che arricchisce i suoi interlocutori, nello stesso tempo arricchisce se stesso, culturalmente, politicalmente, professionalmente e socialmente. Quando si presenta da solo, nudo, con le mani vuote, il suo cervello e corpo, invece, sono pieni di milioni di informazioni da trasmettere agli altri. Il motivo o causa del suo spostamento trasmette informazione politica e sociale. Il luogo di partenza ed arrivo informazione geografica e politica. L'abbigliamento informazione tradizionale o stato sociale. La sua parlata indica la lingua, la nazione e il popolo. Il suo corpo stesso indica che lui è un essere umano di tipo europeo, africano, azziati. Il suo livello sociale è molto importante. Quindi, prima di agire, bisogna pensare a questo. L'interazione tra il nuovo arrivato e la persona incontrata dopo la rigua Provocherà un miglioramento o peggioramento dell'atmosfera sociale, non solo di rispetto o maleducazione. Fiducia o sfiducia. Toleranza o d'intoleranza. Tranquillità o turbolenza. Amicizia o inemicizia. Ospitalità o ostilità. Buona convivenza o brutta convivenza. Per questo motivo, proprio per combattere queste azioni, le associazioni arrivati qua alcuni anni fa, per esempio, prendo due associazioni di cui io partengo, Associazione Multietnica Straniere di Senegalia, fondata nel 1988 da gompensanti italiani, erano loro a invitare i migrati. Perché non facciamo l'associazione? E' proprio per una pacifica convivenza. Sviluppare iniziative per creare possibilità di lavoro, di trattenimento e scambi culturali tra gli adulti. di istruire educazione alla mondialità nelle scuole medie inferiori e mediante le fiabe, percussioni, con strumenti tradizionali, eccetera. L'ACAS, che è l'unica associazione culturale a Rancia Donna Sussariana, è l'unica associazione di donna iscritto nel registro dell'immigrazione della Regione Marche. e lavora moltissimo tuttora e questo, dopo vi lascio a folli, non c'è bisogno che io leggo tutte le attività che fanno. Vi devo menzionare alcuni di questi che sono molto importanti e molte altre associazioni anche provano di farlo. Per esempio, l'insegnamento di lingua italiana. Prima ancora che il governo italiano pensasse agli immigrati, le associazioni l'hanno pensato veramente già da anni 90 e poi gli enti vedendo che queste cose sono importanti o che l'Europa li ha spinto proprio di pensare, la prima cosa non è di congratularsi con le associazioni che stanno facendo, è proprio di toglierle da loro mani e istituire le cose ministeriali in modo che neanche il lavoro che fanno queste associazioni vengono riconosciuti. perché all'inizio c'erano più di 20 associazioni iscritte nel registro, adesso sono rimasti forse 4 o 6? Non perché le associazioni non vogliono fare qualcosa, è perché c'è anche la discriminazione, la segregazione. Per esempio, io ho partecipato sempre, non perché sono intelligente o altra, perché sono arrivata 50 anni fa, era una sfida, voleva integrarmi, nessuno mi ha aiutato, nessuno mi ha insegnato. Allora, trovandomi in difficoltà a rilauriarmi, a rimaturarmi all'età di 40 anni, chi mi prendeva in giro con me? Si, vuoi maturarti che hai già 40 anni? Ho detto, beh, se tu sei maturata a 18 anni, a 40 tu diventi marcia. Io mi maturo a 40 e quindi rimango sempre giovane. E questa è la mentalità degli immigrati. Non si pensano, ecco, io ho questa età, perché non ho ancora fatto questa. Quello che vogliono è la possibilità di dare il tempo, il loro tempo, di entrarsi nell'ambiente dove stanno per poter dare. E vi garantisco che molte associazioni, anche non iscritte nel registro, stanno lavorando e stanno dando mano forte alla regione, all'Italia. Non parlo di lavoro perché hanno già parlato di lavoro. Ma parliamo dell'istituzione. Se volete verificare, vedete come insegniamo la lingua italiana? Con il corpo, con la testa, con la mimica, con l'animazione. In quale scuola italiana si insegna così? No. Perché l'abbiamo visto. Perché non aiutare ancora i migrati, invece di toglierli? Si dice, vogliamo mettere le cose insieme. Invece di cucire le cose insieme, vengono tolte. Butta giù moralmente. Poi, specialmente i migrati, quando perdono il lavoro, che interesse possono avere per l'associazionismo? Anzi, quelli che continuano con l'associazione diventano i nemici. a dire, tu perché le fai? Non c'è niente. Non mi parlare. Non c'è tempo. Ma ci sono quelli che credono e vanno avanti e partecipano fortemente. E io vedo molti, questo è dell'Argentina, vede la dottoressa Cipolari, che da anni sta dentro. Ci sono le donne da Mozambico, dell'associazione nostra, c'è la dottoressa Carletti e ci sono la Zana. perché anche per quello che riguarda il rinnovo di permesso di soggiorno, eccetera, eccetera. Loro sono tranquilli quando vedono i stranieri che si occupano di loro. perché i migrati stessi, nelle associazioni più forti, pensano prima al dovere, non ai diritti. Perché in Italia si parla dei diritti, diritti, diritti. In inglese si dice legislation. Allora tu capisci da lì, non è che devi solo avere, devo pure dare. Perché l'Italia deve aiutare a dare ai migrati, a dare. Perché certe cose si dà a tutto uno e un'altra persona niente. Nella fase culturale abbiamo fatto, ho visto che molti migrati scrivono i libri e si stanno pubblicando molti i libri degli immigrati. Quindi io ho pensato, invece di avere un museo itinerante, di creare un centro culturale africana, però internazionale. Che adesso vi faccio vedere. Cosa abbiamo fatto? Io, mio marito e i figli abbiamo costruito una casa di terra. Come si fa in Africa? Perché ho detto, vorrei colonizzare un pochettino l'Italia. Abbiamo colonizzato questo pezzetto di terra a casa mia, costruendo la casa come si fa da noi, con i bambini. E lì parliamo non solo dell'Africa. Africa non è fatto solo come un posto dove si deve prendere. Diamo, però cercate che possiamo darle a voi. Non solo quello che prendete, se mi puoi aiutare possiamo vedere. Quindi ci sono tante associazioni che le leggi diventano difficili per loro a capire, non hanno sede per le riunioni, non hanno sede per l'incontro culturale. E quando lo fanno, la disintegrazione viene dall'alto. Sapete, questi ultimi cinque anni noi della consulta non conosciamo l'assessore addetto all'immigrazione. Mai visto? Non lo so. Non lo so se c'è o non c'è. E allora come si fa a credere? Non è discriminazione questo. Come si fa a chiedere l'integrazione dal basso se l'esempio non viene dall'alto? Noi vogliamo l'integrazione vera, non ipocrisia. Altrimenti, basta dire, noi vogliamo l'associazione degli immigrati più tranquilla così, almeno più sincera. Non prendere, togliere. Mettiamo insieme, cuciamo, integriamo. Io voglio l'esempio, mi dovete dare l'esempio buone perché siamo pronti a ricevere. Immigrazione fanno mediatori culturali, arrivano dove voi non riuscite ad arrivare. Ma non siamo bravi a pubblicarli. Ecco la differenza. io vi ringrazio per questo. C'è questo museo a Senigale dove facciamo animazione culturale. facciamo un po' di... e sono sui tempi. Si, si è essere partito. ma non... ma non... ma non... ma non... ma non... non è quello che ti vuoi... Anche noi siamo più facciari. Iства... per venire a vedere all'inizio non lo sa spegnere se si può spegnere ce n'è un'altra perché le f ma cosa sono queste immagini? queste immagini ecco sono questa è la cosa di mariage, di matrimonio la catena di matrimonio tutto in legno qui abbiamo l'orto abbiamo seminato anche verdure africane e facciamo anche la gastronomia qui vedrò sopra ecco la casa ecco il museo di terra questo è un professore da Puglia che è venuto a visitarlo è lui che ha fatto questo lavoro il museo si chiama mini bantu african museum non so se avete mai visto un bantu chi ha visto mai un bantu? scusate mano in sopra così poco? e dove l'avete visto? qui anche qui giusto ecco ecco la professoressa di lingua italiana lei è da insegnante io faccio l'animatrice quando insegniamo e dentro questa casa di terra come l'abbiamo costruito? ci hanno detto la terra slavata mai sentito è un architetto italiano quindi abbiamo cercato la terra slavata lungo il fiume e poi l'abbiamo bagnato mescolato con paglia con acqua e poi con i piedi e abbiamo iniziato dalla base a fare il livello un metro alla volta la lasciamo all'indomani un altro metro fino al testo non c'è cemento non c'è ecco rege rege fino adesso i relazioni di scuola piacciono questo è il cancello che ho disegnato io l'intresso è un pochettino è mini per lo spazio però le esposizioni sono più di 600 cose e la differenza tra questo museo e gli altri è che c'è la guida non si può visitarla senza la guida e quest'anno che entriamo vogliamo ricordare Miriam Makeba che è morta qua una giornata dedicata Nelson Mandela e Miriam Makeba con la musica con racconti eccetera e poi faremo anche stile di matrimonio musambicana che sono le donne che sono dietro lì la sfilata di moda e mi sposerò di nuovo con mio marito o mi divorcerò ecco perché facciamo 50 anni di matrimonio facciamo alla tradizione e siete tutti invitati già da adesso e grazie grazie a tutti grazie a tutti